In vlog time! Valtroncea dietro di me, e-bike. Partito, ciao! Gasca, vieni! Valtroncea in arrivo! Sconfetto quello che volete, che tra un'ora prendo la tempesta. Stiamo arrivando in un posto bellissimo, che è la frazione di Laval. Stiamo scampando dalla tempesta, per il momento il tempo tiene. Se vi capita, fermatevi qui dentro, in questo posto, perché ovviamente c'è l'inverno, e beh, la Fonderia La Tuccia. La casetta nel bosco, che costruisco tutti i weekend, praticamente con mio figlio, da ormai due anni. Quasi un abusivismo edilizio. In che scorso abbiamo costruito la veranda, poi qua c'è l'ingresso della cucina e il salotto. Sempre in mezzo al campo. Ok, missione, rifugio, troncea. Speriamo che sia aperto, perché ho una fame da lupi. Non l'avevi raccontato da più facile, Ludo. Ho dato a Fede un e-bike che praticamente si spegne. Questi erano dei presidi dei partigiani. Adesso siamo arrivati finalmente a destinazione, cioè missione compiuta. Bam, bam, bam. Rifugio. Missione fallita, ancora chiuso. Speriamo che sia aperto, perché ho una fame da lupi. Però ci dobbiamo questo posto pazzesco. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Grazie per la visione!